Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Powerplay Un'altra challenge, un altro giorno Ed eccoci qua, sempre con Giacobbe e Donny Ciao raga Buongiorno Sempre morti, mamma mia ragazzi Oh, oh, svegliate Buongiorno Oh, finalmente Questa è una mappa ragazzi E la challenge di oggi inventata da me è Che apparella su Bounty Cosa significa? Significa che io con Mortis correrò a prendere la prima stella Una volta presa la prima stella Noi siamo quelli da rincorrere Cioè gli avversari ci devono rincorrere e provarci a killare Il nostro intento sarà solo di scappare Non farci prendere e non farci killare Noi non possiamo sparare Solo e solamente scappare Però nel caso per esempio con Bibi, Giacobbe Fosse seguito da uno e stesse per morire Allora lì con la sua mazza può respingerlo In modo da scappare più veloce L'importante però è non killare Noi dobbiamo scappare e non killare È fondamentale Donny ha usato a scappare il corretto esatto L'unico momento in cui posso killare E killerò solamente io nel team È quando scenderemo di stelle Quando gli avversari vanno in vantaggio Allora tocca a me, al Mortis A andare lì Killarne uno Riprendere le stelle del vantaggio E scappare di nuovo Tutti e tre Questa è la challenge Spero l'apprezzate Iscrivetevi, lasciate like Supportate il canale come sempre Mi raccomando ieri sono usciti tre video Proprio per questo iscrivetevi Mi raccomando ragazzi Supportate il canale E andiamo con il primo game Eccoci qua con il primo game Allora abbiamo una Piper Che è ottima Ottima Perché in una mappa piena di muri Non ci può hittare Prendo e scappiamo Allora inizio a usare un po' di erba Per nasconderci tipo Ricorrega però Sarà un problema immenso Eh Andrì faccio tipo così Scappo Non la voglio killare Ok Se hittate per indebolirli Mentre scappate Potete pure eh Guardate non killarli Così ne metto E vi fate anche la ulti Lo faccio a spiegare anche un Gretgeta Tic Ah Mi chiuderò Stiamo provando a chiuderli Ah io sto provando a scappare Ok Chiapparella Chiapparella Signor Giacobbe occhio Ok Regà non sono in grado Poverini Non sono in grado Per ora ce la stiamo giocando bene Questa ragà mi sembrava una challenge Molto difficile Ma al momento Gli avversari Sembrano così scarsi Da non riuscire nemmeno Una challenge Che per loro dovrebbe essere semplicissima Ok arriva la testa In teoria Bravissimi Io non capisco veramente Noi stiamo facendo di tutto Buono 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 Scappare Fuga 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 Il rico regà dovrebbe farsi le triple Le quadruple Le quintuple Ma non sta riuscendo nel suo intento Occhio perché qua Giacobbe è un po' chiuso Potrebbe perdere la vita Ok La Piper si sarà chiesta Come mai non mi ha killato Dai Occhio però Regà 18 secondi Se moriamo qua È finita No Non si è bloccato tutto Tranquillo gli ho messo pressione io Stanno scappando da me Sto in base che sono one shot No vabbè che disagiati poverini 1-0 Che tristezza No vabbè No vabbè No 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 Io mi aspettavo di perdere tutte e tre Andiamo con la seconda Sto zitto che non voglio commentare Non ho visto la comp Non ho visto la comp A me ha tagliato l'inizio Arriva la testa a quadra Ah Oh Eh no ci penso io Ok ci penso io Scappate solo voi due ragazzi A me recupero lì Eh c'erano le mine C'erano le mine Porco due Calma ragazzi Veli killo io Veli killo io Chiedo il vostro supporto Solo quando Lo reputo necessario C'è dynamic one shot Non posso fuggiarlo Dai che ce lo fai Ok c'è buco Ok via via Fuga fuga Perfetto Perfetto Siamo ritornati ragazzi Ora possiamo scappare Attenzione Io me la scappo in alto No Non mi hanno visto me No Nascondino ora Ora nascondino Non più chi è farela Facciamo nascondino ragazzi Dimmi quando vuoi la velocità mommy Ora Quanto è bello schivare con baby Fallo fuori Ok Vado a mettere un po' di pressione Guardali Ah Ok Ok Ho che non morire ragazzi Mi raccomando eh Sul finale Eh c'è una mina C'è una mina missata Qualche parte Chiaparello Chiaparello Vieni qua Sono qua Uehe Uehe Io ero lì a spinarli attaccato E loro non sono stati in grado di chiudermi No ma la prima bellissima la prima partita La prima 1-0 Proviamo infatti a replicarlo Andiamo con la terza Eccoci con l'ultima Attenzione Mr. P è fastidiosissimo No c'è anche Jesse No c'è anche Jesse Miss P è fastidiosissimo ragazzi Qua bisogna stare attenti solo al feeding Qua la vedo dura Qua la vedo dura Giochiamo un po' più di nascondino Stavolta Eh vedete Lui spawn a sti pinguinazzi Schifosi Io andiamo un attimo a indebolire Perfetto Sono indebolita In teoria non pusha Invece pusha Guarda che volevano chiudermi sti falliti Ok Chiaramente ragazzi Ora opto a farmi un attimo Eh ha messo il porter Ha messo il porter Mr. P Tazzarola L'ha già messo? Sì Eh proprio vedi Jesse sta lì attaccata L'ho fatto fuori il porter Oddio Via 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 Fuoco a fuoco a scappare Chiapparello Chiapparello Allora ho fatto fuori il porter Io Eh Ok ok Dai 1-0 abbiamo vice raga 1-0 Basta solo non crepare Azz Torretta di Jesse L'avevo io L'avevo io Ok Vi ho spinti via Proprio nel momento giusto In cui stavano pushando Quella torretta Stanno pushando me Li sto tenendo Sopra Azzaltri i pinguini Speed 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 Nooo Mi è stannato Arrivo io Arrivo io Devo arrivare la mia kill Signori Dietro Vai Mettere la torretta Buonissimo Ok A me non l'ho visto Raga gioca a nascondino ora Questo è il mio nascondino Ok Mi ho fatto fuori anche il pinguino Mi sono fatto un'altra ulti Io non devo crepare Mi vogliono schiacciare Ma no Stanno da voi Doni 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 Speed speed Raga non morite Non morite Please Vai vai No non moriamo Non moriamo Bravi Eh ci stanno chiedendo Ci stanno chiedendo in tre Aia scappate Chiapparello No 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 Eh la guida Vai la puoi citare lo stesso Si no 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 Rimp Peccato ragazzi Ci stavamo riuscendo Due su tre Va bene La prima ragazzi Rimarrà nella storia Questi avversari Hanno perso con 1 a 0 Quella rimarrà nella storia E nulla ragazzi Spero davvero abbiate apprezzato Questo tipo di format Iscrivetevi al canale Passatevi a comando Dall'instagram dei due ragazzi E dal mio canale Viola Dove siamo in live ogni giorno Anche in questo momento Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi